Si trova ora all'istituto penale per i minorenni di Bologna, il 17enne pesarese arrestato per aver messo in piedi un rilevante traffico di hashish tra coetanei. I fatti risalgono esattamente a un mese fa, quando la mattina del 22 luglio scorso la squadra mobile di Pesaro Urbino ha bussato alla porta di casa del giovane residente a Pantano. Alla vista delle forze dell'ordine il minore si è mostrato subito collaborativo consegnando in un primo momento due panetti di fumo che custodiva nel comodino della sua camera da letto assieme ad un bilancino utile per dosare il quantitativo da smerciare. Alla consegna del materiale il giovane ha immediatamente compreso che i militari avrebbero proceduto con la perquisizione dell'abitazione. A quel punto il 17enne ha consegnato anche uno zainetto che conteneva nove panetti di hashish, oltre ad alcuni strumenti usati per la divisione delle dosi da spacciare. In poche parole il quantitativo ammontava più di un chilo di stupefacenti. Il minorenne è stato trasportato in questura a Pesaro dove il pubblico ministero di turno ha disposto la sua collocazione presso il centro di prima accoglienza di Ancona. Da lì poi il trasferimento presso l'istituto penale di Bologna. Il ragazzo che sarà difeso dall'avvocato Canducci era già noto alle forze dell'ordine per diversi atti vandalici legati agli episodi delle baby gang che negli anni hanno agito tra i quartieri di Pantano, Muraglia e Montegranaro prendendo di mira Piazza Redi.